L'ingegnere Ermano Ferrari, nato a Colleferro il 2 gennaio 1956, laureato in ingegneria meccanica, cresciuto professionalmente e umanamente presso la BPD Difesa e Spazio di Colleferro, facendo tesoro dell'esperienza acquisita presso lo stabilimento BPD, è riuscito a utilizzare queste esperienze specializzando il suo impegno nel campo dell'automotive fino alle nuove frontiere della guida autonoma, portando il lustro alla città di Colleferro. Ritira il premio l'ingegnere Ermano Ferrari, premiano il sindaco e il sindaco di Sottotitoli. Grazie. 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 nasci è qualcosa di profondo e quindi vi ringrazio tutti, anche io ringrazio la mia famiglia perché ha una pazienza incredibile, gira pagando per tutto il mondo, devo dire che hai una bella pazienza, grazie a tutti.